Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica delle 10 cose che non sai. Oggi scopriremo altre 5 curiosità su San Valentino. Cominciamo! San Valentino nacque a Terni nell'anno 175 e divenne vescovo della città. La tradizione di regalare cioccolatini è inizio tempo fa, quando il cioccolato era un prodotto d'elite, molto pregiato e non facilmente reperibile, quindi considerato come un regalo molto prezioso. Nel 1700 diventa comune per San Valentino scambiarsi regali e cartolina, mentre nel 1868 viene prodotta la prima scatola di cioccolatini di San Valentino. In Finlandia la festa di San Valentino è dedicata agli amici, negli Stati Uniti è dedicata alla famiglia, in Brasile è legata alla speranza di trovare marito. Mentre in Cina le donne mostrano le loro abilità domestiche per trovare marito. La prima lettera di San Valentino di cui si è rimasta traccia fu scritta da Carlo Dorleana a sua moglie, con le parole «Sono già malato d'amore» e «Adolcio la mucca». Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere con un bel like e rimanete sintonizzati qui, sulla nostra pagina. Il video è terminato e vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica «Le 10 cose che non sai». Un bacio ad Andrea e alla prossima!